Musica Dopo la settimana di stop dovuta agli impegni della Nazionale nelle qualificazioni a Euro 2016 tornano in campo nel weekend le squadre dei tre gironi di Serie A maschile, prima divisione nazionale nelle gironi A il derby alto a Tesino e anche il match di cartello di questo quinto turno lo Hacker Bozen capolista con 15 punti e il Forst Brixen si affrontano al Palakestiner la sfida che prenderà il Viale 19 sarà diretta dai signori Montagnier e Spina l'altra capolista del raggruppamento il Pressano è anch'essa impegnata in un match difficile sul campo delle Stenze Ferrara terza forza del campionato in questo girone il Viale 18 arbitra no Carrera e Rizzo sfida tra due nomi storici dell'handball nazionale quella tra Solar Plus, Rovereto e Trieste il cui fisco di inizio dei signori Zennalli e Riello giungerà alle 18 stesso orario e direzione affidata alla coppia Iaconello-Iaconello in terra trentina dove il Metal Cedar Mezzocorona cerca la seconda vittoria stagionale contro l'MT Group che invece di punti ne ha conquistati tre in cinque gare giocate suscita interesse infine la contesa tra Cassano Magnago e Indata Meran il cui avvio è fissato per le 20 e 30 arbitri Bisaccia e Piffanelli Girone B e due delle tre formazioni che occupano il primo posto in classifica sono impegnate in match esterni sono il sassare di scena sull'ostico campo della Luciana Mosconi-Dorica con il via alle 18 e 30 arbitri Boscia e Pietraforte e il Carpi impegnato invece sul campo del Castenaso formazione emiliana a quota 3 in grotatoria con il via dell'incontro alle 21 arbitri Corioni e Muratori riceve invece il Bologna United a partire dalle 18 con l'arbitraggio della coppia Romanello-Zappa terreno l'ultima delle tre formazioni in testa Lambra a completare la quinta giornata in calendario alle sfide Farmigea-Nuova Era-Casal Grande si comincia alle 16 dirigono Savarese-Bocchieri e Romagna-Cingoli con Cesu e Compagni che cercheranno di mantenere il terzo posto e dall'altra parte la compagine marchigiana alla ricerca invece del secondo successo in questo campionato la sfida sarà arbitrata dai signori Colombo e Fabian a partire dalle 18 e 30 Nel girone ci occhi puntati tutti sulla sfida del Palazzo San Giacomo da una parte i vice campioni d'Italia del Planet Win 365 Conversano a punteggio piena e per via di una gara da recuperare distanti tre punti dalla vetta dall'altra parte la Junior Fasano capolista del girone e che arriva da sei vittorie in altre tante gare disputate è un derby oltre che la gara in grado di cambiare gli equilibri in testa alla classifica il Viale 19 arbitrano Cosenza e Schiavone chi potrebbe approfittare della sfida in terra pugliese è la Semat Fondi di scena domani contro il Cus Chieti il Viale 18 arbitri Vairo e Balzano sfide interne anche per Gaeta e Cus Palermo che ricevono rispettivamente Tecnoelettronica Teramo il Viale 17 dirigono Bassi e Scisci e il Tirinoci con l'apertura alle 18.30 arbitri Politano e Reale va a caccia dei primi punti nel suo campionato infine la compagine del Putignano che domani affronta il Città Sant'Angelo dalle 19 e sotto la direzione dei signori Coletta e Pinto Grazie